Tutte le cose belle finiscono. E per belle intendo un attico da sballo, voli di coordinati, ragazzi stupidamente belli e vodka. Decisamente troppa vodka. Polizia! Nessuno si muore! Sì, è grave come sembra e credetemi diventerò anche peggio. Ho una cosa per te. L'hai fatto tu! Anche un bambino di 5 anni potrebbe imparare a farlo su internet. Proviamo a farne uno stasera. No, non lo so. Sai che sei la mia migliore amica. Via Babbo Natale 123? Sì. Ve li devo sequestrare. Corri, 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 corri! Abbiamo qualche idea. Vi ascolto. Non sembra male. Riusciresti a venderli? Certo. Ne potrei vendere... 200. Questa è tutta una teoria, è ovvio, perché io non farei mai niente di illegale. Chi è pronto a fare pasta? Sono felice d'averlo fatto. Anch'io. Ehi, bandite! Quando è che saranno pronti? Le cose stanno così. O mi darete 200 falsi, oppure 30.000 dollari. Valutate voi. Se non riuscirete a trovare una soluzione, avremo un grosso problema. Muori, 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 muori. Chi è il tipo a cui dobbiamo i soldi? Che cosa può farci? Chi di voi due è il capo? Assolutamente. Assolutamente. Grazie.